good morning si effetti qui sono le 11 e 25 quindi è mattina certo non mattina prestissima comunque mattina mister master maestro o semplicemente o semplicemente david lynch it's february 13 2022 and it's sunday here in naples i think cloudy morning middle morning cloudy morning with with a soft wind fiftys seven final it's around 14 celsius and this means that non è albino sempre per me quella giornata veramente 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 fredda come in questi giorni in questo periodo come sempre e lo dirò fino al subentrario della primavera invito a vedere il mio video sul freddo che ho fatto a dicembre per capire quali sono le pratiche che utilizzo non per cercare non di vincerlo perché impossibile ma quantomeno di combatterlo il freddo sì per quanto riguarda il video sui pensieri credo che lo faccio sempre separato da questo anche se comunque non ho molto da dire diciamo solo che il mio napoli calcio purtroppo non è riuscito a vincere ieri quindi non è riuscito a fare il sorpasso del primo posto in campionato ai danni dell'inter partita giocata stesso contro l'inter comunque l'azzurro di adesso sempre in sostegno del colore la mia squadra che l'azzurro ovviamente il napoli ma purtroppo ce l'abbiamo fatto comunque invito a vedere il video pensiero di ieri perché sulla partita ho detto alcune altre altre cose in più nel video di ieri anyway as you just see from the window it seems that this afternoon we non godremo di those beautiful blue skies and golden sunshine a me sembra nuvoloso infatti così come ho detto all'inizio beh le cose potrebbero cambiare in positivo a un momento all'altro quindi questa è la mia frase che altrimenti ma la vedo comunque difficile vedremo said this so from the mythical window with the color of the curtain non completamente brutta comunque un po bella ma non completamente brutta anzi all'inquadratura and it's green roller shooter and finally from a mythical keyboard di amadi gx 640 ipg 625 have a great day in all the people who follow the channel and the reports si un saluto oriente a tutti so again have a great day in all these people and everyone too and here's go the whole thing the whole thing e and that you Grazie a tutti